Senti, avevi detto mi manca il gol, eccolo qua, e che gol? Sì, 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 ma tutto apposta, però davvero ci tenevo a fare gol quest'anno perché, come avevo detto, però non mi aspettavo di fare un gol così bello, sono molto contento, soprattutto per la bella vittoria, che bella vittoria abbiamo fatto, abbiamo fatto tre bellissimi gol oggi. Senti, prima però avete anche sofferto molto. Sì, sì, abbiamo sofferto la loro voglia di far bene all'ultima partita in casa, ci hanno messo grande intensità, ci hanno messo in difficoltà nella prima parte del primo tempo, noi abbiamo tenuto botta, poi dopo il primo gol ci siamo un po' sciolti, abbiamo giocato meglio e siamo riusciti a fare i tre gol subito nel primo tempo. Senti, com'era l'ambiente? Perché questa è la prima partita che parliamo di giocare da retrocesso, il Parma aveva bisogno di un punto, anche se ho letto che qua qualcuno diceva che il Parma è in getta, invece no, il Parma aveva bisogno di questo punto, del decimo posto. Sì, sì, noi ci tenevamo a mantenere la posizione, di arrivare ai decimi e quindi ci tenevamo a far bene la partita. L'ambiente penso che è stato un esempio di sportività, il pubblico di Palermo per la squadra retrocess, però li hanno applauditi e incitati dall'inizio alla fine, quindi è un grande esempio di sportività sicuro. 49 punti, la stagione si chiude con questo, che bilancio fai, sia tuo personale che della squadra? Ma è un buon campionato, anche se potevamo sicuramente far meglio, perché visto la prima parte che abbiamo fatto benissimo, abbiamo avuto un calo e poi abbiamo finito abbastanza bene, peccato per la sconfitta domenica, però abbiamo finito abbastanza bene, in linea di massa direi che abbiamo fatto un buon campionato. L'ultima domanda che ti faccio, lo dico sempre pubblicamente, io credo che Gobbi sia uno dei giocatori fondamentali di questa squadra, lo dicono i minuti giocati, l'impegno e quindi dal tuo punto di vista il campionato? Ti ringrazio, io cerco di mettere in campo sempre tutto quello che ho, tutto il profilo tecnico e di impegno, poi ci sono parite dove si gioca meglio e parite dove si gioca peggio, però l'importante è dare il massimo, penso che di aver fatto una discreta stagione, ci tenevo a fare gol perché a finirla senza aver fatto gol, ci sarei anche un po' rimasto male, sono contento di aver finito così bene con un bel gol. Grazie. Grazie.